Assessore Sulpizio, una buona notizia per i cittadini pescaresi, quest'anno pagare la Tari costerà di meno? Facciamo una dovuta premessa, queste ancora non sono le tariffe definitive, ma queste sono le tariffe che l'amministrazione, l'assessore, porta in visione al Consiglio Comunale e quindi andranno approvate e andranno soltanto nel momento in cui verranno approvate e saranno definitive. Noi oggi le abbiamo volute divulgare perché c'era stato un fuggi-fuggi di notizie con dati che non erano neanche reali e quindi abbiamo voluto fare un'operazione dicendo che queste sono le tariffe che l'amministrazione propone. Sicuramente queste tariffe che noi proponiamo sono buone per i cittadini e di questi siamo felici perché portano dei ribassi sia in favore dell'utenza non domestica, i cittadini e le case, sia in quelle non domestiche, tutte le attività commerciali. Abbiamo dei ribassi su questo, abbiamo spiegato le motivazioni in cui ci sono dei ribassi. Vogliamo spiegare come mai siete riusciti a ridurre il pagamento della Tari? Sì, l'abbiamo anche spiegato in conferenza stampa perché all'interno del piano finanziario che abbiamo fatto quest'anno abbiamo sia delle diminuzioni relativamente al costo di esercizio per circa 200.000 euro che si vanno a sommare a 1.400.000 che ha già molto tolto l'anno scorso come riduzione all'interno del piano finanziario. In più abbiamo spiegato che abbiamo anche oggi la ripartizione di oltre un milione di metri quadrati perché abbiamo iniziato una bonifica della banca dati già dall'anno scorso che ci ha consentito all'interno di un rassestamento di tutto quello che è la banca dati del servizio di capire che ci sono questi un milione di metri quadrati e quindi ciò consente l'abbassamento delle tariffe. Avete abbattuto anche l'evasione per quanto riguarda il pagamento della Tari? Sì, su questo soprattutto come metri quadrati scovati che logicamente ha fatto sì che anche il numero aumentasse quindi il numero di cittadini che collabora nel pagamento e quindi se aumentano i cittadini diminuisce la tariffa logicamente abbiamo dei dati negli ultimi anni di 100.000 metri quadrati ulteriori che hanno anch'esso ha fatto sì che un certo contributo per l'abbassamento delle tariffe. Grazie